Sabato 7 giugno Papa Francesco ha ricevuto il Presidente del Messico, il signor Enrique Peña Nieto. Il colloquio si è soffermato su alcuni aspetti della vita del Paese, quali le numerose riforme varate, in particolare quella costituzionale riguardante la libertà religiosa. Sono stati affrontati altri temi di comune interesse, tra cui l'emigrazione, la lotta alla povertà e alla disoccupazione e le iniziative volte a combattere la violenza e il narcotraffico. C'è stato anche uno scambio di opinioni sui temi attinenti all'attualità regionale e internazionale. Grazie a tutti.